ciao torniamo a parlare di melone in questo video vedremo cosa accade dopo la spollonatura o sfemminellatura della pianta e faremo anche un piccolo approfondimento riguardo la fase molto delicata dell'allegagione dei frutti prima di continuare ti chiedo di iscriverti al canale perché mi aiuterà moltissimo con questo piccolo e modesto lavoro di divulgazione poi se il video ti piace vuoi lasciare anche un like sarebbe una cosa molto gradita perché mi aiuterà anche questo a fare arrivare a più persone questi contenuti nell'ultima guida smart abbiamo seguito la spollonatura della pianta del melone in questo caso abbiamo scelto una tecnica specifica cioè di rilasciare sostanzialmente la nostra pianta a uno il fusto della nostra pianta come rimuovendo le prime quattro femminelle vi lascerò il video in descrizione così se non l'avete visto potete seguirlo per bene quindi cosa succede con questa tecnica noi aumenteremo la robustezza del nostro fusto quindi è un'operazione consigliata nei trapianti un po più tardivi quindi estivi di melone per avere una pianta più forte detto in poche parole quali sono gli altri vantaggi che sposteremo la fruttificazione quindi allontaneremo sia nel tempo ok quindi ritarderemo anche un po la fruttificazione ma la sposteremo soprattutto dalla base del fusto e ci sono diversi vantaggi vediamo di fare un esempio pratico guardate questa pianta è stata sfemminellata come detto prima e ha un frutto già abbastanza grande però è lontano dal fusto dalla base del fusto invece andiamo a vedere questa pianta qui che è stata invece lasciata a due diramazioni vedete e a due detto così e ha un frutto molto vicino al fusto vedete il frutto è lì già il frutto è abbastanza grande più grande di quello che abbiamo visto prima però la pianta è più esile sicuramente e quindi potrebbe fruttificare meno nella parte superiore quindi a seguire della pianta capite vantaggi che possono essere aumentati grazie anche ad altre pratiche come la pacciamatura va bene quindi fra pacciamatura e sfemminellatura noi possiamo ambire ad avere un raccolto migliore sotto diversi punti di vista soprattutto a livello di qualità ecco quindi migliore pezzatura dei frutti e appunto magari così facendo i frutti assorbiranno meglio più lentamente più nutrienti quindi se tutto va liscio avremo un raccolto migliore ecco detto così c'è da dire che con questa tecnica dobbiamo mettere in conto di andare a cimare in un secondo momento le nostre piante quindi andare a togliere la parte abicale del fusto principale della pianta principale questo perché la pianta continuerà a fruttificare ovviamente anche dopo la sfemminellatura dalle nuove femminelle andando a cimare in un secondo momento miglioreremo ancora ecco questo effetto di regolare la pezzatura dei nostri frutti e aiuteremo la pianta ecco a sopportare lo stress appunto allegando diversi frutti andando a cimare magari daremo un segnale forte alla pianta che deve pensare ai frutti capite però questo ne parleremo in un secondo momento ancora è presto quali sono le priorità adesso in questo momento anzi in questa fase l'allegagione dei frutti quindi le fioriture dobbiamo prenderci cura delle fioriture allora questa fase di solito è compresa fra la seconda e la terza settimana e potremmo anche allungarci alla quarta settimana dalla messa a dimora delle piantine bene cosa dobbiamo fare all'inizio dopo il trapianto del nostro campo dobbiamo cercare di fare sviluppare più possibile la nostra coltivazione bene sia con le irrigazioni ovviamente le fertirrigazioni se avete preparato bene il terreno quindi con tanta sostanza organica la maggior parte del lavoro è già fatto bene poi cosa succede quando la pianta inizia ad avere una certa lunghezza solitamente verso un metro di lunghezza complessiva dobbiamo iniziare a tenerla sotto stress a livello idrico cosa vuol dire quindi irrigare meno se noi abbiamo un impianto di irrigazione e solitamente irrigiamo questo un'ora al giorno quando dobbiamo mandare in stress le nostre piante dobbiamo dare al massimo un quarto d'ora ecco sono valori medi molto però attendibili in questo modo cosa faremo che segnali daremo alle nostre piante che devono pensare a fruttificare perché c'è crisi ecco di acqua quindi poca acqua la pianta cosa farà peserà ai frutti alla riproduzione della specie no quindi questa è una cosa importantissima da fare in questa fase e la dobbiamo anche mantenere per alcuni giorni quindi prolungare nel tempo fin quando non vediamo nel nostro campo una certa quantità di frutticini quindi ben allegati ovviamente se avete poche piante una o quattro o cinque quando vedete che ci sono due tre meloni a pianta iniziate a aumentare l'irrigazione anche qui stiamo attenti non diamo tanta irrigazione tutta in una volta perché ormai siamo contenti di avere diversi frutti allegati e quindi ci entusiasmiamo troppo no mai dare troppo tutto in una volta va bene come dicevo prima in un campo più grande di meloni dobbiamo andare a vedere quando almeno la metà delle piante hanno uno due o anche tre frutti ben allegati quindi i frutticini ben visibili e quindi lentamente iniziare ad aumentare l'irrigazione cosa vuol dire che nel giro di tre massimo quattro giorni dobbiamo tornare a livelli di irrigazione consoni quindi in base alle temperature in base al nostro terreno come sapete sono tutte cose che io cerco di approfondire in video specifici adesso vi sto dando un po' una panoramica dei consigli quelli più utili veramente nelle coltivazioni non solo a livello professionale ma anche a livello hobbistico guardate siamo quasi all'ora di punta è il quinto giorno che do meno irrigazione e le parti apicali sono belle dritte quindi vuol dire che la pianta sta benissimo questo perché appunto era preparata c'era tanta vegetazione già da primo bene per quanto riguarda questo breve video è tutto nel prossimo sicuramente vedremo appunto l'operazione di cimatura o andremo insomma a spuntare le nostre piante di melone anche qui dobbiamo stare attenti perché può fare una bella differenza ecco le pratiche devono essere eseguite non dico in maniera chirurgica ma in maniera quantomeno corretta vi invito a continuare a seguire il canale quindi iscrivetevi come dicevo e mettete mi piace ai video e non solo ci sono anche i canali social andate a guardare in descrizione troverete diversi link utili di sicuro anche ad altri video su questi argomenti poi continuate a fare i bravi picciotti e le brave picciotte ciao sicuramente avete già notato queste macchie strane nei frutti non vi preoccupate non sono malattie è una varietà particolare ve ne parlerò ovviamente la prossima volta a un raccolto migliore sotto diversi da